Ciao a tutti, io sono Gianluca. In questa lezione continueremo lo studio delle funzioni sugli Array. Vedremo in particolare la funzione ArraySearch, che cerca un valore all'interno di un Array, la funzione InArray, che si comporta allo stesso modo di ArraySearch, però con una piccola differenza, e ArrayKexis, che controlla se è una chiave presente o meno all'interno di un Array. Iniziamo subito con la funzione ArraySearch. Definiamo prima un Array. Facciamo un var dump per visualizzare l'Array. E proviamo a ricercare all'interno di quest'Array 10, ma non come intero, come stringa. In questo modo. ArraySearch. Come primo parametro passiamo il valore che vogliamo ricercare, in questo caso 10, come stringa, come secondo parametro, il nostro Array. Facciamo un var dump di $Ris e vediamo che cosa abbiamo. Questo è il nostro Array e $Ris che cos'è? Un intero 0. Perché? Perché ArraySearch ritorna la chiave dell'elemento se lo trova, altrimenti ritorna a false. E infatti il valore 10 è proprio chiave 0. Però noi abbiamo impostato qui che stiamo ricercando una stringa e qua all'interno però è un intero. Come possiamo forzare al controllo di identicità? Ovvero vogliamo che non solo il valore sia uguale, ma siano anche dello stesso tipo. Semplicemente impostiamo come terzo parametro true. Aggiorniamo, vediamo se è cambiato qualcosa. E infatti adesso abbiamo false perché abbiamo il valore 10, ma non sono dello stesso tipo perché all'interno dell'arrray è un intero, mentre noi stiamo ricercando una stringa con contenuto 10. Proviamo con A e lo vediamo che è presente, in questo caso è una stringa. Vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo 1, quindi A a chiave 1, ma proviamo a fare quest'altro test. Ricerchiamo, anzi no, qua va bene. Ricerchiamo con ArraySearch A in maiuscolo. E vediamo che abbiamo false perché la ricerca è fatta in modo che è sensitive. Quindi A in minuscolo e A in maiuscolo sono considerati diversi. Per quanto riguarda in Array, si comporta allo stesso modo. Qual è la differenza? Che mentre ArraySearch ritorna alla chiave dell'elemento se lo trova è false altrimenti, in Array ritorna soltanto true o false. Quindi se in questo caso A è presente, e mettiamo in Array, e facciamo il var dump sempre di dollaro ris, vediamo che abbiamo true, semplicemente l'indicazione è true, non abbiamo la chiave. Se mettiamo in questo modo, abbiamo false. La funzione ArrayKeyExist invece controlla se è presente la chiave all'interno dell'array e così come per ArraySearch e in Array il controllo è case sensitive. Quindi ricerchiamo ad esempio con ArrayKeyExist ho sbagliato la C è una X come primo parametro indichiamo la chiave da ricercare A come secondo parametro l'array facciamo il var dump e vediamo che è false perché A è il valore, non la chiave le chiavi sono queste 0, 1, 2, B proviamo con B in maiuscolo ed abbiamo ancora false proviamo con B in minuscolo e true proviamo con ad esempio chiave numerica 5 e false proviamo con chiave 1 e true bene abbiamo visto come con queste funzioni noi possiamo ricercare in modo molto semplice e veloce se è presente un determinato valore o se è presente una specifica chiave bene per questa lezione è tutto ci vediamo alla prossima lezione